Lo spazzolino l'hai preso? Sì. E hai preso il deodorante? Preso. E anche dei vestiti comodi? Anche quelli. Cos'hai? Lo sanno che sono nero. Dovrebbero? Sarebbe una cosa da sapere. Mamma e papà, il mio bel fidanzato nero verrà con me questo fine settimana e non voglio che rimaniate scioccati dall'uomo nero. Non ti ho mai visto in questo stato, fratello. Conoscere la famiglia, fare i viaggetti, non mi tornare in borghesito, bello, con i pantaloni tirati fino allo stomaco come un vecchio. Quindi state andando fuori città? Già, per il fine settimana. Posso vedere la sua patente? Non stava guidando lui. Non ho chiesto chi guidava, ho chiesto un suo documento. Chiamami Dean e abbracciami, fratello. Allora, da quanto va avanti questa... cosa? Abbiamo assunto Georgina e Walter per assistere i miei genitori. Quando sono morti non ho voluto mandarli via. Tu fumi di fronte a mia figlia? Smetterò. Potrebbe occuparsene lei. Come? Ipnosi. Sto bene così. Sei pronto ad affrontarli? Quanto sarà terribile. Ho fatto qualche ricerca. A quanto pare un sacco di fratelli sono scomparsi in quella zona. È tutto a posto. Ma come fai a non avere paura, amico? È bello vedere un fratello qui. Chris mi stava dicendo di quanto si senta più a suo agio con me. Scappa. Scusami. Scappa! Dobbiamo andarcene. È tutto ok. Rose, le chiavi. Prendi le chiavi. Non riesco a trovarle. Rose! Affonda nel pavimento. Aspetta, aspetta, aspetta. Affonda. È terribile sprecare una mente. È terribile sprecare una mente. Con tutti questi bianchi divento nervoso. No. No. No, 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 no. È terribile sprecare una mente.